Io sì. Io sì. Io mi vaccino. Dottor Montu, il mese di novembre è anche il mese dei vaccini anti-influenzali. Come sta procedendo questa campagna, la campagna 2015-2016? Sta procedendo bene. Quest'anno stiamo avendo un buon riscontro. I medici di famiglia che hanno ritirato i vaccini per la diffusione e per la pratica ai loro assistiti ci stanno dando dei segnali positivi. Stiamo osservando un rientro per quel che riguarda le preoccupazioni degli anni precedenti e diciamo che per il momento siamo moderatamente soddisfatti e speriamo veramente in una ripresa di quelle che erano le coperture vaccinali e delle lesioni che avevamo fino a pochi anni fa che ci hanno consentito soprattutto di ridurre notevolmente la diffusione di questa malattia. Io sì. Io sì. Per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale ci sono alcune fasce di popolazione a cui il vaccino è caldamente consigliato. Gli over 65 e coloro che con meno di 65 anni soffrono di malattie che potrebbero peggiorare con l'insorgere dell'influenza. Molto spesso un 65enne si trova a cavallo tra appunto con l'età in cui è necessario farsi vaccinare oppure consigliato e magari si sente molto bene fisicamente. È importante anche in questo caso ascoltare come si sta ad ascoltarsi? Certo che è importante. È importante sì perché un conto è la sensazione di sentirsi bene e questa è una cosa importante naturalmente. Noi speriamo che non solo a 65 anni ma anche a 75-85 la gente continui a sentirsi bene. Però quello che non si può negare è che col passare degli anni si crea quello che noi chiamiamo una immunosenescenza cioè un invecchiamento del sistema immunitario il quale risponde sempre meno agli attacchi esterni, virus, batteri eccetera. L'influenza in questi casi qua può creare delle condizioni di peggioramento della situazione generale e quindi quegli organismi anche in buona salute possono subire degli influssi negativi dall'influenza stessa. È bene che ci si vaccini. Anche io mi vaccino.